Come distinguere le allergie dalle infezioni respiratorie? Oggi ne parliamo con la professoressa Eleonora Nucera che è direttore dell'unità operativa di allergologia del Policlinico Universitario Agostino Gemelli di Roma. Buongiorno. Buongiorno a lei. Allora professoressa, cerchiamo di capire subito che cosa sono le infezioni respiratorie. Cosa sono esattamente? In genere sono delle affezioni per lo più di natura virale che colpiscono tutto l'apparato respiratorio. Quindi si possono manifestare con raffreddore, con tosse e a volte si possono complicare anche con asma. E cosa accade quando si complicano con l'asma? La situazione si complica per il paziente? Sicuramente e in quel caso si deve intervenire con una terapia appropriata ma a volte con antibiotica, proprio perché questa complicanza è dovuta ad una sovrapposizione batterica. Allora, le infezioni in questa stagione si possono però anche un po' confondere con le allergie, si può far confusione. Qual è la differenza? Diciamo che nelle infezioni respiratorie ci sono alcuni sintomi che sono in comune sicuramente con l'allergia ma altri che permettono di distinguerle appunto dall'allergia. I sintomi comuni sono appunto a carico dell'apparato respiratorio quindi lo scolo nasale, la rinite, l'occlusione nasale, la tosse, a volte l'asma ma al contrario delle allergie ci sono altri sintomi come la febbre, la cefalea, i dolori muscolari e artralgici che ci permettono di distinguerli dalla appunto reazione allergica. Si fa anche un po' di confusione con il Covid se una persona teme di avere il Covid che magari ha questo dubbio, cosa deve fare? In questi casi se c'è il sospetto di avere un'infezione da Covid è importante fare il tampone anti-Sars-CoV-2 che ci permette di fare una diagnosi. La distinzione di base è comunque la febbre è l'elemento che aiuta a farci capire che non si tratta di un'allergia di primavera. Sicuramente. È l'elemento di base. Sicuramente la febbre, l'astenia, i dolori muscolari sono sintomi caratteristici dell'infezione che ci debbono far pensare appunto ad una componente infettiva e non allergica. La ringrazio molto. Grazie a lei. Grazie.